ciao a tutte le partecipanti a questo gruppetto in realtà piccolino ancora che si intitola e che a cui ho dato il nome scegli di rinascere allora inizio da questo gruppo un po per raccontare diciamo un po la mia storia e un po anche per raccontarvi diciamo tutto quello che è successo anche diciamo negli ultimi giorni ma anche nelle ultime ore allora per chi non mi conoscesse io mi chiamo paola torrieri nel web sono mamma modello base e questo nome mi è stato dato da mio figlio nel 2010 quando aspettavo la mia seconda figlia e siccome ero a casa in gravidanza a rischio e ho deciso di aprire un blog quindi avevo del tempo da libero da condividere in realtà il blog l'ho aperto perché perché io mi sentivo sola nel senso che pensate io il primo figlio l'ho avuto nel 2008 non c'erano neanche gli smartphone a dirlo fa effetto non solo non c'era neanche amazon quindi mi sentivo sola quindi la mia diciamo volontà di condivisione il fatto di condividere insomma il momento della gravidanza no il momento di quando ci si diventa mamme un po di quello che si fa magari anche durante il corso preparto ma che io cercavo anche nel web appunto con la seconda figlia non potendo frequentare più di tanto perché ero quasi sempre stesa a letto e quindi è nato il blog mamma modello base io ho sempre amato la condivisione quindi mi piace condividere le cose che mi piacciono diciamo che pochissimi mi hanno regalato cose davvero poche le maggior parte delle cose che vedete online sono tutte cose che io mi sono comprata e pagata ma a me piace condividere quindi questo è quello che mi ha animato sempre e io sono lavorata in giurisprudenza quindi a 19 anni ho scelto quella come strada e quando sono uscita dall'università ho trovato subito lavoro in banca quindi grandi festeggiamenti ho iniziato a lavorare in banca mi sono sposata ho avuto appunto due figli poi però mi sono resa conto che non era la mia strada mi sono resa conto che non era la mia vita mi sono resa conto che non era proprio quello che mi dava le farfalle nello stomaco perché io credo che le farfalle nello stomaco non lo dia solo l'amore ma in realtà siano una conseguenza della soddisfazione della vita quindi la mattina alzarsi con la voglia davvero di alzarsi di fare avere un progetto quindi avere una progettualità avere quella quella soddisfazione che davvero ti fa andare avanti giorno per giorno e non ho quel libro perché qui sono in ufficio e non me lo sono portato perché c'ho la casa sto leggendo un libro che si intitola trovo il tuo perché e proprio in prefazione dice fare un lavoro soddisfacente non è un una fortuna ma è un tuo diritto quindi ho deciso di iniziare a fare diciamo raccontare un po la mia storia in questo gruppo proprio perché io considero davvero un diritto di tutti quello di rinascere quello di fare qualcosa che piace e di sentirsi soddisfatte in quello che si fa e di amare quello che si fa la settimana scorsa in realtà neanche tanti giorni fa quindi venerdì scorso dunque oggi è lunedì e sono stata ad una ad una riunione chiamiamola convention molto piccolina molto ridotta organizzata da alcune persone che lavorano con me quindi da alcuni colleghi che lavorano con me in doterra vi ho lasciato che lavoro in banca quindi come sono approdata doterra allora prima di decidere di licenziarmi in banca ovviamente non essendo né ricca possidente e né ricca editiera mi sono dovuta formare una rendita e ho iniziato a lavorare per un'azienda di cosmetici famosa non posso anche dire la marca comunque lavoravo per il rosce non mi pare ci sia niente di male sono stata anche la prima d'italia per un bel po di tempo e questa esperienza mi ha mi ha insegnato che se uno vuole ce la può fare perché se io iniziando così da niente tra l'altro non essendo neanche diciamo molto ferrato dal punto di vista di make up sono diventata la prima d'italia e quello che ho potuto apprendere da questa esperienza e che ce la potevo fare ovviamente è passato tempo io poi nel 2018 mi sono licenziata ok dopodiché è arrivato il lockdown il lockdown è stato un periodo complicato non solo per in generale diciamo per tutto quello che ha comportato ma anche per me che facevo questo come lavoro perché perché i beni dell'azienda per cui lavoravo non erano considerati di prima necessità quando nel 2018 quindi faccio un passo indietro mi ho iniziato cioè avevo iniziato a pensare di licenziarmi quindi ancora nel 2017 ho attraversato un periodo molto buio non mi vergogno ho fatto anche uso di psicofarmaci perché non riuscivo a dormire ero molto tormentata e quando poi mi sono licenziata nel 2018 comunque facevo fatica ancora a pensare di avere una strada di avere una focalizzazione cosa farò della mia vita quindi voi pensate no 40 anni e cosa faccio io sono nata nel 78 quindi nel 2018 ce ne avevo giusti giusti 40 laureata in giurisprudenza ma che faccio a me di quella laurea non me ne può fregare di meno quindi cosa faccio e una mia amica che peraltro adesso è collegata e che ringrazierò sempre nella mia vita mi ha detto guarda io uso degli oli essenziali che sono favolosi se vuoi ti do il numero di una persona io li uso insomma li uso ma non so detto spiegarti altro e ti do il numero di questa persona e puoi sentirla io chiamai questa persona con cui tra l'altro adesso insomma siamo colleghe quindi ringrazio che è Daniela Carignano e lei mi disse sì sì guarda l'olio che tu cerchi è il PIS che è quello che mette in off la testa perché tu hai bisogno un pochino di davvero spegnere tutto quello che è pensiero quindi è un po' lasciar sedimentare e in doTERRA ci si scrive col kit quindi io non ho fiotato mi ero appena licenziata e ho comprato il kit più il PIS è bellissimo perché sono rimasta due anni clienti alla fine prima di decidere di iniziare a lavorare per doTERRA quindi ci ho messo un po' e a marzo 2020 proprio durante il lockdown ho deciso che questa era la mia strada perché ormai ero totalmente innamorata degli oli essenziali e nel frattempo mi ero anche iscritta ad una scuola di counseling nel frattempo con la scuola l'ho finita sono io sto frequentando il master e dopo ho deciso anche di iscrivermi a psicologia clinica quindi mi sono presa anche una seconda laurea insomma diciamo che arrivata quest'anno ho chiuso un bel po' di cerchi e direi che necessariamente posso parlare della mia rinascita quindi questo gruppo nasce per questo per darvi la io vi voglio dire voglio dare la speranza che tutto è possibile che siete veramente voi a decidere quello che volete fare della vostra vita quello che vi posso dire io è questo che quando venerdì sono andata a questa riunione ci sono stati dati degli input ovviamente no sono state portate delle esperienze non è stata una riunione motivazionale zero ci sono state date delle esperienze e mio merito mi ha guardato perché c'era anche lui con me lui mi appoggia quindi io lo ringrazio sempre del fatto che sia sempre accanto a me e mi ha detto guarda che queste esperienze spettacolari ce le hai anche tu dovresti raccontarle ed effettivamente mi sono resa conto che in questi anni di racconti di persone che hanno condiviso le proprie esperienze che mi hanno detto guarda paola che questi oli sono fantastici ma tu lo devi dire tu lo devi raccontare e ne ho tante alcune le pubblicate in album su facebook su testimonianze sul mio profilo personale li trovate anche ma tante altre realtà sono difficili anche da passare in uno screenshot perché tante sono proprio esperienze che ho vissuto non solo in prima persona ma che ho vissuto magari anche con gli altri quindi raccontate e sono racconti e quello che appunto mi sono proprio appuntata durante questa riunione di venerdì è questo che do terra è uno strumento per migliorare il mondo io ne sono sempre più sicura e ho capito che il mio scopo della vita il mio compito davvero è quello di dimostrare alle persone di far capire di non far dimenticare che esistono degli strumenti di benessere per stare bene emotivamente psicologicamente fisicamente esistono degli strumenti che vanno al di là di quello che possono essere la diciamo mettiamolo tra virgolette le medicine tradizionali anche se non sono assolutamente contraria ma esiste un mondo spirituale esiste un mondo della mente esiste un benessere emotivo che fa rinascere che fa rinascere e se è vero che do terra rende migliore il mondo io quello che posso dirvi è che sicuramente ha reso migliore me perché quando questi oli sono entrati nella mia vita me l'hanno cambiata mi commuovo perché veramente mi rendo conto che questi oli quando entrano nella casa delle persone la cambiano è inspiegabile perché tra l'altro è sempre così entrano a casa delle persone quando ce n'è bisogno e magari succede che le persone mi contattino magari mi dicano no adesso no no adesso no non so adducendo le scuse più varie di solito la scusa la scusa più usata è costano troppo quando poi in realtà sappiamo che tanto poi si va d'altrove e si spende il triple il quadruplo ma è una scusa facile quella no del fatto del del fattore economico in realtà poi dopo un po' magari scatta qualcosa e la persona mi dice sempre pazzesco sono arrivati nella mia vita proprio nel momento giusto e davvero questi oli arrivano nel momento giusto e io lo ripeto è inspiegabile perché anche per me è stato così quando sono entrati in casa mia adesso fanno parte di casa mia casa nostra nel senso i miei figli mio marito tutti quelli che entrano a casa mia non possono non notarli ma soprattutto quello che passa ecco lo ripeto è l'amore che io ho per questi oli l'amore per la vita l'amore per una possibilità alternativa di stare bene perché davvero questi oli quando entrano migliorano lo ripeto una cosa pazzesca non c'è è inspiegabile ma veramente così hanno una frequenza altissima una frequenza ovviamente noi sappiamo che la fisica quantistica ci ha insegnato che si può misurare anche quello che noi non vediamo quindi anche se non vediamo la l'energia che produce l'olio in realtà l'olio la produce perché ha una frequenza vibrazionale e quando voi mettete vicini questi oli se avete una sensibilità ma anche se non ce l'avete in realtà iniziate subito a percepirla e più andrete ad acuire questa sensibilità e più andrete a sentirla questa estate ero in viaggio c'era io e mia figlia soffriamo la macchina a un certo punto mia figlia mi ha detto mamma ma devo continuare a mettermelo addosso è stato un viaggio particolarmente pesante per varie vicissitudini e io gli ho detto guarda Livia non ti preoccupare te lo anche solo in mano ed in effetti guardate che anche solo tenendoli in mano siccome hanno davvero una vibrazione alta soprattutto i bambini ma anche io adesso che ho imparato un po' purificarmi grazie alla meditazione a tanti esercizi che faccio si sente la vibrazione quindi è incredibile come questi oli quando entrino in casa cambiano cambiano trasformano le persone quindi quale gruppo migliore di questo per raccontarvi della mia rinascita non ce n'era ecco vedo che ci sono anche un po' di persone collegate io ho evitato di leggere i commenti perché se già era una fase di commozione quindi se leggevo i commenti poi magari andavo ancora più fuori vedo che c'è la mia amica Giorgia che ha scritto che anche io questo libro si sia molto bello trovo il tuo perché in caso che si fosse collegato qualcuno magari qualcuno lo guarderà indifferita vedo che c'è la mia grandissima amica Emanuela anche collegata quindi grazie Lella per essere qua niente io non ho niente altro da dirvi volevo solo raccontarvi un po' di me e un po' degli ultimi degli ultimi cambiamenti quindi vi abbraccio vi saluto se ho l'energia vado a fare una diretta su instagram altrimenti chiudo prendo la macchina e vado a casa ciao a tutte